... Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Anticiclone non più così saldo. La pressione atmosferica infatti cede sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 7 febbraio. Sul Veneto il cielo risulterà piuttosto coperto. Al mattino non si escludono locali pioviggini in pianura in genere di debole intensità. Locali nebbie dopo il tramonto. Temperature stazionarie minime tra 3 e 6 gradi. Massime tra 8 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui inizialmente possibili piovaschi, specie sulle zone costiere. Il cielo si manterrà grigio ovunque. Temperature minime tra 5 e 7 gradi. Massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Dove avremo un'alternanza maggiore tra sole e nubi. Con qualche addensamento in serata. Temperature minime tra 2 e 4 gradi. Massime sui 10-12 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 è tutto. Vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel Aroncade Treviso